Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento a Taranto. Le fiamme sarebbero partite dal secondo piano di un palazzo abbandonato in via Giusti nei pressi dell'ospedale Santissima Annunziata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A distanza di poche settimane dall'evento drammatico verificatosi in uno stabile in Piazza Carmine, dove una donna di 82 anni, Rosalia Mistretta, perse la vita, si registra un nuovo incendio. Ora si sta procedendo ad appurare le cause di questo ennesimo episodio. Al momento non sono ancora note. Incidente a Taranto intorno alle 12. Un'auto con a bordo una donna e suo figlio si sarebbe ribaltata. Il veicolo avrebbe impattato contro un altro mezzo per ragioni ancora non chiare. Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto in zona Salinella, a ridosso dello stadio Iacovone. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto la mamma e il bambino, le cui condizioni ancora non sono note, al nosocomio cittadino. Ecco, io quello che le volevo chiedere è, da medico, ritiene che la nostra sanità, la sanità locale, abbia le strutture, i macchinari, il personale sufficiente per affrontare in maniera efficace questa situazione. Secondo me la risposta è sì, cioè nel senso che questa possibilità noi ce l'abbiamo, però secondo me bisogna ancora migliorarla. Ci sono ancora degli investimenti da fare su questo settore. Ci sono degli investimenti da fare, se posso dirla, per esempio sulla possibilità di poter fare un trappianto di midollo occhio qui in Puglia, i bambini sono spesso costretti ad andare a Roma per fare un trappianto di midollo, oppure su altri tumori più complessi come per esempio i tumori cerebrali, devo dire che i tumori cerebrali ancora sta crescendo la capacità di poterli gestire ancora qua, però ci sono, diciamo che siamo ad un buon punto, però abbiamo ancora degli investimenti da fare per poter fare in modo che vengano curati. Il capogruppo PD in commissione bilancio a Montecitorio, Baldo Pagano, punta il dito contro il governo sulla questione Exilva. Sull'ennesimo decreto per l'Exilva il governo sbarra le porte a qualsiasi modifica, denuncia Pagano, umiliando persino la sua maggioranza costretta a bocciare i suoi stessi emendamenti. Un comportamento inaudito secondo il capogruppo PD che ancora una volta dimostra il totale cinismo della destra e l'assoluta insofferenza per le legittime rimostranze dei tarantini. Pagano sottolinea fino a che punto ancora una volta i diritti a Taranto vengano calpestati, gli enti locali ignorati, i sindacati zittiti, le imprese dell'indotto lasciate morire. È chiarissimo, conclude Pagano, che l'unica strategia di Meloni e Urso è accontentare desiderata di Arcelor Mittal. Lo stabilimento siderurgico Exilva ha dichiarato uno stop di 24 ore per mancanza di materie prime all'indomani dei tavoli istituzionali che hanno visto la questione al centro del dibattito nazionale. La crisi del siderurgico non sembra rientrare. A Cerri ed Italia ha comunicato alle organizzazioni sindacali che la Cerria 1 dello stabilimento siderurgico di Taranto si fermerà al momento per 24 ore per mancanza di materie prime, ferroleghe e refrattario, ha precisato Biagio Prisciano, segretario generale aggiunto Fincisl Taranto Brindisi. Ma lo stop potrebbe stendersi coinvolgendo anche altri impianti a confermarlo lo stesso Prisciano. A valle di questa fermata, conclude Prisciano, molto probabilmente potrebbero essere interessati altri impianti collegati. Da Taranto aiuti in direzione della Turchia e della Siria, luoghi colpiti dal terremoto che ha visto 40.000 persone perire sotto le macerie. Taranto diventa ponte di solidarietà per i popoli turco e siriano grazie alla NATO Support and Procurement Agency che ha cominciato a spostare nel nostro porto i container immagazzinati nel centro operativo meridionale che ha sede nella nostra città, diretto dal generale Renato Lepore, ha spiegato in una nota il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Si tratta di mille unità che compongono un rifugio semipermanente capace di ospitare almeno 2.000 sfollati a causa del terremoto. E motivo di orgoglio per noi, conclude Melucci, sapere che anche Taranto saprà offrire il suo contributo per aiutare le vittime di questa enorme tragedia e testimonia anche la vicinanza a Ilport, il gruppo turco terminalista del molo polisettoriale. L'unione sindacale di base di Taranto, accanto agli operatori ex Sanità Service che questa mattina hanno manifestato davanti al Tribunale Ionico in attesa degli sviluppi del ricorso presentato presso la sezione lavoro. Un'udienza che potrebbe essere decisiva nel ricorso ad opera dei lavoratori assunti a tempo determinato in piena pandemia per svolgere le attività di pulitori e sanificatori presso gli ospedali e poi lasciati a casa al termine dell'emergenza. I 50 lavoratori hanno chiesto che venga dichiarata l'annulità del bando del 7 febbraio 2020 con cui Sanità Service dave il via alle selezioni per l'assunzione di 40 unità lavorativi a tempo indeterminato che ha di fatto escluso ed impedito la stabilizzazione lavorativa di coloro che erano stati assunti a tempo determinato. E' stata una battaglia combattuta con sacrificio da tutti i dipendenti ed oggi la grande soddisfazione perché oggi siamo qui in Tribunale a sottoscrivere le transazioni riportando queste persone dove meritano di stare sul loro posto di lavoro e quindi per noi è una grande giornata. 14 mesi di battaglia con decine di scioperi, presidi, ore e ore sottratte alla famiglia per rivendicare un diritto sacrosanto che questi lavoratori hanno maturato e oggi grazie alla costanza di questi lavoratori possiamo festeggiare perché da domani avranno, anzi da oggi avranno un futuro un po' più luminoso, più ricco di speranza e soprattutto sarà stata una situazione anomala. Questi sono gli eroi del Covid che dopo il Covid sono stati buttati fuori. Oggi gli eroi del Covid rientrano sulle postazioni quindi continuano a dare il loro contributo e quindi neanche qui c'è il riconoscimento da parte della politica, della giustizia, di tutti gli attori di questa vicenda di quello che questi ragazzi hanno fatto durante quel periodo all'anno. Determinante è stata innanzitutto la lotta dei lavoratori che hanno sempre creduto in questa fondatezza delle loro battaglie. L'azione del sindacato ed in particolare di Franco Rizzo che insieme all'ausilio dell'Avvocato Mario Soggia hanno portato questo risultato importante. Ed infine ma non da ultimo l'impegno della Regione Puglia del Presidente Emiliano e il sottoscritto tutte le azioni che ha fatto su questo tema le faceva perché era in raccordo come suo consigliere diretto con il Presidente. Il Presidente ha sempre creduto nella fondatezza di queste rivendicazioni dei lavoratori e finalmente sebbene un po' in ritardo ma arriviamo all'obiettivo raggiunto. Vale a dire dare dignità a questi lavoratori che ricordo durante il periodo Covid rischiando la propria vita quando in un periodo dove molti lavoratori non accettavano di essere chiamati e di lavorare in corsia nel periodo in cui si andava bardati e quando si ritornava a casa c'era il rischio anche di infettare i propri cari, questi lavoratori a norma di legge finalmente gli è stata riconosciuta il loro sacrosanto diritto ad essere assunto. Musichiamo, il galà lirico di San Valentino. Grandi emozioni e grandi applausi nello scenario della concattedrale Gran Madre di Dio per il Taranto Opera Festival organizzato e promosso dall'associazione musicale Domenico Savino guidata da Pierpaolo De Padova e il patronage del comune di Taranto. Intitolato Musichiamo è stato un autentico galà lirico dedicato a San Valentino con musiche di Mozart, Verdi e Puccini. Condotto dal maestro Paolo Cuccaro, direttore artistico e straordinario interprete al pianoforte, il fitto programma ha visto in scena un ensambolo di grande livello con il soprano Maria Iacobellis, il mezzo soprano Marianna Vinci, il tenore Ugo Tarquini e il baritono Luca Simonetti. Abbiamo appena terminato il secondo turno di questo concerto dedicato all'amore a San Valentino per ieri e oggi comunque continuiamo con, come sempre facciamo, la seconda giornata dedicata a una pomerigliana e una serale. Il concerto è stato benissimo, il pubblico calorosissimo, abbiamo dei cantanti strepitosi, Ugo Tarquini tenore, Maria Laura Iacobellis soprano, Giulia Di Omede mezzo soprano e Luca Simonetti baritono e poi le prime parti della nostra orchestra, l'orchestra del Taranto Opera Festival, Pasquale Melucci al primo violino, Mina Melucci al secondo violino, Marcella Forte a violoncello, Giuseppe Benedetto a viola e Andrea Pina al violoncello e il sottoscritto oggi anche in veste di pianista, oltre che di conduttore della serata che spesso noi andiamo a fare al Teatro Offeo, oggi siamo qui in Conta Cattedrale, una cornice meravigliosa, bellissima. Veniamo spesso qui alla Conta Cattedrale, abbiamo fatto varie manifestazioni, continueremo a farlo perché merita davvero una cornice così bella. Una ferita ancora aperta in casa a Custionico Basket Taranto, ora però corre guardare avanti ai prossimi impegni stagionali. Domenica prossima la squadra tarantina tornerà in campo in trasferta contro la Virtus Arechi Salerno, necessario dunque assicurarsi la vittoria ed evitare gli errori commessi contro la Juve Caserta. Con un briciolo di lucidità e attenzione in più potevamo provare a giocarcela fino all'ultimo possesso contro una grandissima squadra, l'analisi di coach Olive sulla sconfitta nell'ultimo weekend al Toursport. Il momento chiave è stato quando abbiamo concesso loro sul nostro più otto la possibilità di rientrare con troppa facilità. Olive interviene anche sull'arbitraggio, ci sono stati alcuni fischi leggeri, spiega che in un momento topico dell'incontro hanno favorito il rientro dei nostri avversari. La sconfitta con Caserta non compromette però gli obiettivi del Cussionico Taranto in merito agli scontri con Ruvo e Sant'Antimo. Davide Olive precisa, non credo che queste siano le nostre dirette concorrenti.